Ancora uno schianto sul muro di cemento eretto come simulacro di un casello autostradale in effetti inesistente, accassibile lungo la Siracusa Gela. Il CAS, il Consorzio Autostradale Siciliano, ne ha annunciato la demolizione. Ma prima che essa sia compiuta, a proposito quando, si allunga la serie degli automobilisti che vi rischiano la pelle, oltre a distruggere sistematicamente l'autovettura. Ieri l'ultimo grave incidente. Per estrarre dall'abitacolo il conducente del veicolo schiantato sul muro del casello sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa che hanno dovuto usare la fiamma ossidrica. Sul posto per i rilievi del caso una pattuglia della Polizia Stradale e un'ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi. Intanto, dopo il lungo blocco e i contenziosi e i vari ostacoli che hanno tormentato l'esecuzione dei lavori nel tratto Rosolini-Modica, la situazione sembra entrata nella normalità operativa, anche se i dubbi e i rischi sono dietro l'angolo. Si arriverà al completamento nei tempi previsti? C'era un primo cronoprogramma che prevedeva una produzione nei mesi di marzo e di aprile di 750 mila euro, come start-up invece hanno prodotto 1 milione 250 mila euro. Nei mesi di maggio e giugno devono produrre 2 milioni e mezzo di euro. Abbiamo già traguardato circa 2 milioni e 300 mila euro. Ora nei prossimi giorni avremo la contabilità finale. Nel mese di luglio e di agosto immaginiamo di arrivare a 3 milioni di euro. Noi abbiamo un obiettivo, quello di aprire entro 18 mesi la Rosolini-Ispica, i primi 10 chilometri, per evitare di dover perdere i 48 milioni di cofinanziamento comunitario. È sicuramente un'iniziativa coraggiosa, è una scommessa che stiamo mettendo in gambo, ma riteniamo di poterla superare.